Emily Dickinson, Nella stanza di Emily, è un testo che ho scritto nel autunno dello scorso anno e che è uscito per Mattioli 1885 i primi di febbraio del 2020, quindi poco prima del lockdown. È un testo a tiratura limitata per una collana dedicata appunto alla casa editrice nei suoi 135 anni dalla fondazione ed è andato presto esaurito, adesso è in ristampa e la cosa abbastanza sorprendente che è accaduta è stata l'ottima accoglienza da parte di lettori e critici naturalmente nei limiti della disponibilità dello stesso testo. Che cosa è successo e perché? Proverò a spiegarvelo. Prima di tutto naturalmente Emily Dickinson è Emily Dickinson, cioè una delle più grandi voci poetiche di tutti i tempi, non certo solo americana, ma proprio come dire quando penso alla poesia, alla grande poesia è difficile non pensare al suo nome, non pensare ai suoi versi. Quindi ovviamente il primo traino è stato senz'altro la sua statura poetica. Ma l'altro elemento che in questo periodo così particolare è entrato a gamba quasi tesa riguardo appunto alla sua vicenda biografica è la scelta che nella vita Emily Dickinson ha fatto in età molto giovane, più o meno intorno ai 30 anni, di chiudersi, recludersi, autorecludersi nella propria casa e da un certo punto in poi addirittura nella propria stanza. Quindi questa per lei scelta, ma poi la domanda è, è mai una scelta veramente quella di rinunciare alla vita, rinunciare al mondo e chiudersi dentro uno spazio comunque limitato? Non so se sia veramente una scelta, nel suo caso però naturalmente non eravamo sotto lockdown. Ecco, ma questa esperienza estrema della sua biografia sicuramente è risuonata nei lettori in modo forte e particolare. Ecco, fatta questa breve premessa, io proverei a visitare per punti i luoghi in qualche modo di questo mio testo, ma anche credo i luoghi della poesia e della figura di Emily Dickinson. Dickinson è uno di quei casi in cui biografia e opera sono difficilmente scindibili tra di loro, si condizionano fortemente a vicenda e anche si illuminano a vicenda, risuonano di tinte e colori il più possibile a spettro allargato. Allora, riparto quindi dall'inizio, anche dalla sollecitazione che ha portato me a compiere questo viaggio, perché il testo è prima di tutto un viaggio, il mio testo è anche prima di tutto un viaggio, un viaggio dove? Un viaggio ad Amherst. Io sono stata nel settembre dello scorso anno a visitare la casa di Emily Dickinson, era un mio vecchio desiderio quello di poter vedere la casa dove lei aveva vissuto, dove aveva appunto vissuto per tutta la vita. è nata in quella casa nel 1830 e è morta in quella casa nel 1886. C'è stata una breve parentesi in età tra infanzia e adolescenza in cui la famiglia si era trasferita sempre ad Amherst in un'altra dimora, ma diciamo la casa della vita è quella che tuttora visitiamo appunto, quella che ospita il museo Emily Dickinson ed è chiamata Homestead. Quindi io avevo questa grande curiosità e faccio finalmente questo viaggio fino nel New England, un viaggio che è abbastanza avventuroso se così possiamo dire, perché non c'è un mezzo di trasporto se non l'autovettura che io non ho usato diretto, quindi il pullman, cambio di pullman, stazioni appunto in questa regione tra Massachusetts e prima Connecticut, poi Massachusetts molto particolare e quindi una piccola diciamo avventura dentro un'America non la più nota, non la più conosciuta, non la più esplorata. Ecco, che cosa è accaduto durante questa visita? È difficile naturalmente dare una risposta unica, ma se proprio dovessi concentrarla in una parola quello che è avvenuto è stato l'incontro con la luce, cioè io ho fatto questo viaggio in un giorno di settembre di fine estate e ho avuto la fortuna, ma non così rara per fortuna in quel periodo dell'anno di incontrare una giornata luminosissima, una giornata di sole. Quando sono entrata nel pomeriggio nella casa di Dickinson e poi nella sua stanza mi ha veramente colpito la luce di questa stanza, perché anche? Non solo perché era una giornata luminosa, ma perché questa stanza è una bellissima stanza con quattro grandi finestre, quattro grandi finestre orientate diversamente che guardano sulla principale strada che va verso il paese, il cui nome appunto è Main Street e sul giardino interno che si affaccia diciamo sull'altra casa della famiglia Dickinson, gli Evergreens, dove abitava il fratello Austin con la moglie Sue. Ecco, improvvisamente dentro questo spazio piccolo, se vogliamo comunque lo spazio di una stanza, seppur di una bella stanza, diventava non più uno spazio chiuso, ma uno spazio con quattro aperture sulla luce e sul mondo appunto, Main Street era la strada dove passavano tutti quelli che arrivavano in paese, era la strada che si doveva fare per andare nel centro del paese. Quindi è come avere vissuto in qualche modo quello che doveva essere il senso, uno dei sensi per lo meno di quella chiusura. Sono in un luogo chiuso, ma non è un luogo chiuso perché ci sono quattro enormi finestre che si affacciano sul mondo e da queste finestre io vedo la vita del paese e vedo anche la vita della natura perché dall'altra parte c'è il giardino e soprattutto la stanza è anche la stanza della mia mente, della mia immaginazione, del mio sogno. Emily Dickinson scrive di notte soprattutto, quindi davanti alla finestra c'è comodamente un piccolo tavolino, comodamente perché il tavolino consentiva di spostarsi ponendolo dove la luce fosse più favorevole, ma prima di tutto e soprattutto Dickinson scrive durante la notte con la lampada sul tavolo. Quindi a quel punto quella stanza è la stanza delle meraviglie, è la camera delle meraviglie, è una camera di sogno e di lotta, di lotta con il mondo, di lotta con quello che il mondo vorrebbe o avrebbe voluto fare di lei. E qua passiamo al secondo punto, quindi la stanza, la luce, l'autosegregazione, ma anche l'immaginazione, il potere della fantasia di inventarsi mondi partendo da un mondo chiuso, apparentemente chiuso e piccolo. Ecco, la seconda questione che questa visione ci illumina è quella della ferita o della mancanza che spinge probabilmente Dickinson prima di tutto alla scrittura e poi alla segregazione. Emily probabilmente trova nella scrittura la sua forma di espressione più congeniale, ma già in età giovanile la scrittura di poesie abbastanza spontanee fatte ai tempi della sua formazione, della scuola, è una scrittura che viene sempre condizionata dal fatto che una donna, una giovane donna non è destinata o non doveva essere destinata a questo. Il destino di una giovane donna era quello di costruire una famiglia, di conservare il nucleo familiare, tanto che come sappiamo chi al femminile si avvicina alla scrittura in quegli anni spesso utilizza pseudonimi maschili o comunque deve fare percorsi abbastanza accidentati e faticosi per potersi affermare. Ecco nel caso di Dickinson questa affermazione della propria identità di poeta una volta che da parte sua c'è stato questo riconoscimento è difficile, è come se lei decidesse ogni volta di fare un passo indietro da questo punto di vista tanto più si spingeva oltre nella ricerca delle parole giuste, del ritmo giusto, di una forma di scrittura assolutamente innovativa qual è quella di Dickinson delle sue poesie e poi anche delle lettere che noi oggi siamo in grado di leggere, tanto più lei si chiude perché prova, si affaccia al mondo, la sua lettera al mondo cerca una strada ma i numerosi ostacoli che incontra rendono questa strada per Dickinson impossibile. Così assistiamo a una sorta di ripiegamento lento e definitivo verso appunto una visione ristretta a livello di interlocutori e di destinatari quasi privata o familiare di questo suo discorso poetico che invece al contrario diventa sempre più ricco e sempre più potente. Quando lei comincerà a chiudersi sempre di più dentro il perimetro delle mura domestiche, siamo intorno al 1862, sono gli anni in cui noi abbiamo proprio la traccia dell'ultimo forse tentativo importante che lei fa di uscire allo scoperto come poeta. risponde a un appello che viene pubblicato su un'importante rivista dell'epoca e scrive direttamente a questo critico letterario che si chiama Higginson, che nella vita è anche un colonnello, quindi al colonnello Higginson, al maestro Higginson, mandandogli una scelta molto selezionata delle sue poesie. La risposta del colonnello, non a caso colonnello, è una risposta non proprio negativa ma quasi negativa, nel senso che dice sì capisco ma i suoi versi sono troppo liberi, non saprei dove esattamente metterli, come collocarli, quindi le consiglio di aspettare, le consiglio di maturare, di arrivare a una forma di scrittura che sia più traduco, commestibile. Ecco e a quel punto si scatena in Higginson non tanto la rabbia, credo, quanto una sorta di delusione, di senso di sconfitta ma anche di lotta e per quello parlavo appunto di camera di guerra, non solo Wunderkammer ma anche proprio War Room. Perché? Perché davanti a questo smacco, a questa sconfitta, Dickinson risponde con parole ironiche, come se all'altezza degli anni sessanta, quando la sua creatività è al suo massimo, lei scrive moltissimo in quegli anni, tantissime poesie che anche trascrive, corregge, c'è tutta una lunga questione sulle varianti che in un primo tempo lei seleziona e poi mano a mano lascerà invece quasi a testo, come dire che le varianti sono a loro volta testi possibili della sua poesia. La visione è qualcosa che può andare a fuoco in modi diversi, in epoche di lettura differenti. Ecco, lei credo che sia tale il contraccolpo che la risposta sia quella della presa in carico di una consapevolezza sempre più forte del suo valore, di un valore che però è una moneta che lei può spendere solo nella cerchia ristretta degli amici e dei familiari, ma questa cerchia ristretta non le impedirà di continuare fino alla fine a scrivere i suoi versi. Si vestirà di bianco e in questo abbiamo tanta letteratura intorno a lei, insomma c'è una vera e propria mitografia, un bianco che può essere letto in tanti modi, bianco della sposa, bianco di chi è in lutto. Io credo che Dickinson è un personaggio complesso, è un personaggio di luci e ombre, per cui per lei il bianco e il vestito da sposa sicuramente significa entrambe le cose, è la festa ed è il lutto allo stesso tempo. Bene, fino all'ultimo Emily scrive e scrive girando per casa con foglietti, prendendo pezzi di carta, buste, ricette che rigira e sul retro di queste scrive, appunta velocemente immagini o veri e propri versi che le vengono alla mente e continua a scrivere lettere, lettere che sono indirizzate appunto ad amici e familiari, lettere che contengono i suoi versi, lettere che mano a mano che il tempo procede hanno una scrittura che sempre più si avvicina a quella delle poesie, lettere, cioè che sempre più diventa una scrittura poetica, sempre più diventa una scrittura per poetica intendo fatta di poesia, fatta di attenzione massima alle parole che vengono scelte, a una selezione e a una capacità di sintesi. Le lettere si accorciano, le lettere dell'adolescenza sono lunghe lettere, le lettere della maturità sono lettere brevissime, fino all'ultima lettera che lei scriverà alle cugine Norcross prima di morire, che contiene appunto quello che adesso noi leggiamo sulla sua lapide, cioè call back, richiamata. Due parole, due parole in questo caso soltanto definiscono quello che è il suo sentire alla fine della sua vita. Ecco, abbiamo detto la stanza, la segregazione, l'autoreclusione, la luce, l'ombra che attraversa la sua vita, che non è solo la sconfitta o la difficoltà o l'impossibilità di arrivare alla pubblicazione e quindi rimanere inedita. Emily Dickinson sarà pubblicata solo dopo la morte e sarà pubblicata attraverso una vicenda anche quella della pubblicazione tanto complessa quanto la sua vita. La sua famiglia si divide insomma in due ali fondamentali che in qualche modo esigono di presentare una diversa versione di Emily, una versione più edulcorata, quella appunto che talvolta è passata più facilmente nella nostra conoscenza, cioè una Emily innamorata di uccellini, fiori, cielo, alberi e invece una versione più dura e più complessa dove la morte, il lato oscuro, il dark side della sua vita e la sessualità, la scoperta dell'amore, la capacità di vivere le sue pulsioni affettive e sessuali in modo molto aperto e probabilmente anche in modo non tradizionale. Si può parlare o perlomeno attraverso i suoi versi sicuramente ci sono delle forti caratterizzazioni verso un amore completamente femminile di tipo con tinte probabilmente omosessuali, ma non è questo il punto, è amore appunto. Questo sì, solo questo in fondo ci interessa. C'è una Emily diciamo tutta un po' ripulita, un po' come l'immagine l'unica che noi conosciamo del daguerrotipo che la rappresenta, un po' monacale, assolutamente seriosa e forse anche molto melanconica e anche un po' triste e invece un ritratto di Dickinson che la vuole ironica, vitale, creativa, contraddittoria, lampeggiante, piena di appunto di luci e ombre ma anche di tanta luce, quella luce di cui appunto parlavo all'inizio e che è stato un po' il filo conduttore del mio viaggio. Io non sapevo che avrei trovato quella luce ma quando ho visto quella luce ecco lì ho capito che ero arrivata esattamente alla fine del viaggio o forse proprio lì cominciava il mio viaggio dentro i versi della Dickinson e anche un po' dentro la mia storia, dentro di me, in qualche modo dentro la mia storia di lettrice, dentro la mia storia di persona che si è occupata per tutta la vita di libri.